Stava sistemando lo specchietto retrovisore a bordo del mezzo aziendale quando un tir le ha tranciato di netto un dito della mano destra, vittima dell'incidente sul lavoro e un operaio della società concessionaria di strada dei parchi. L'episodio è avvenuto nella mattinata di lunedì al chilometro 134 dell'autostrada 25 in direzione Pescara, poco dopo il casello di Prato La Peligna. Stando la ricostruzione effettuata dalla polizia stradale di Sulmona che è intervenuta sul posto per i rilevi di rito, è emerso che l'operaio cinquantenne stava risistemando lo spicchietto retrovisore del mezzo della società quando un tir di passaggio ha mandato in frantumi lo specchietto e gli ha spezzato il dito senza fermarsi perché con ogni probabilità il conducente non se ne è reso conto. L'uomo a quel punto è stato immediatamente soccorso dagli altri colleghi che hanno recuperato il dito e lo hanno accompagnato con i mezzi personali dell'ospedale di Sulmona. Qui i medici hanno tentato di sottoporre il cinquantenne all'intervento chirurgico, purtroppo non è stato possibile ricucire il dito, le condizioni dell'operaio comunque non destano preoccupazione, i sanitari hanno deciso di ricoverarlo nel reparto di ortopedia, ne avrà almeno per un mese. Sul posto è stato effettuato un sopralluogo degli ispettori dell'Asda 1, chiamati ad accertare il rispetto delle misure di sicurezza trattandosi di un incidente sul lavoro. Il cinquantenne infatti si trovava a bordo del mezzo aziendale per segnalare un cantiere in movimento. Alla polizia è il combino di rintracciare il conducente del tir, gli agenti stanno raccogliendo le testimonianze dei presenti e acquisendo le immagini delle telecamere di videosorveglianza.